Ciao a tutti da Iota e bentornati sul canale. Oggi proveremo Night of the Dead. È una preview e come tutte le preview, questa è la prima volta che avvio il gioco e lo proveremo insieme. Allora, andiamo a vedere se c'è intanto settaggi, qualcosa che ci può far essere utile. C'è davvero la lingua italiana? Non credo, perché ha un early access, quindi graphics, però non si sa mai. No, non c'è assolutamente niente. Ok, abbassiamo la musica, come al solito. Perfetto. Save settings. Lingua. Attenzione, c'è francese, tedesco, coreano, russo, spagnolo, cinese, portoghese, brasiliano. E voilà, signori, come sempre. Non ci siamo, ci dimenticano sempre. Non ho mai capito perché. Tutorial sì, grazie. Ok, back. Nuovo game. Eh, hardcore? Può essere? Non può essere? Ah, ok. Permadeath. Ok, normale. Posso scegliere... Ah no, sono solamente la donna. Non ci sono altri personaggi. È partita così l'inquadratura. Non è colpa mia. Perfetto. Ci siamo. Partiamo da un garage. Trovo un po' scuretto, però, eh. Vediamo lei com'è. Hm. Diciamo che c'è un problema di scegliere, ma non ci interessa. E dacci il tutore. Distruggi una macchina per prendere un pezzo di iron. Hm. Cosa? Ah, F break. F? Vabbè. F. Ma che sta a fare? Ah, così? Ah, c'abbiamo il coltello. Hm. Ma siamo fortissimi. Ok. Distruggi... Un cespuglio per prendere i rametti. Cespuglio? Eh, cespuglio, cespuglio. Penso sia questo. No. No, questo si attacca. Eccolo qui. Qui c'è un cespuglio. Cespuglio. Questo è un cespuglio. No. Non è un cespuglio. Però possiamo prendere secondo me un sasso. Questo? No. Sarà questo? No. Ci siamo già bloccati. Ah, ok. Forse ho capito. Dobbiamo puntarlo con... ...il mirino? Tipo così? No. Prendiamo questa cosa. Cos'è? Journal update. Jay. Tanta roba. Ti sei svegliato. Sei qui. Tanta roba. Grazie. Prendi la pietra. Ci dice, distruggi un bash per prendere... ...quindi un cespuglio... ...per prendere i rametti. Ah, fermo, fermo, fermo. Ho visto qualcosa. No. Non è così. Non è così. È FGHYZ. Non funziona nulla. C'è una ruota. Cioè, è una ruota. Una pietra. Ah, eccolo qua. È lui, è lui, è lui. Così? Ma non è così. Cioè, così io faccio male. E, F... ...Q, E. Vabbè, continuo così. Ah, forse devo equipaggiare questo. No. Sì. Ho distrutto. Dove equipaggiare il coltello, forse. Ora... Sì. Praticamente fa così. Craft a failing access. Ah, ok. Adesso abbiamo raccolto... ...le cose col coltello. Possiamo craftare. B. No. B. 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 Craft. Equipment. Craft cooking. I. Utility. Medi. Oddio. Medi. Ok. Inventario. Molto meglio. Fail in access. Uno, due, tre. Ce l'abbiamo tutto? Vai. Ce l'abbiamo. Dove l'ha messo? Qui. Ce l'abbiamo qua. Distruggi un albero per prendere i tronchi. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. No. Al sesto... Ho tirato giù un albero gigante. Ma... Tutta questa cosa qua? Vabbè. Ma... E quindi? No. Vedi? Eh? Ho già preso? Ah, così. Ok. Build. Ah, costruisci le fondamenta. Però prima di costruire le fondamenta... Che è una cosa che... Cioè... Qualcosa per difenderci. C'è l'arco. Cioè... Ci sono le frecce. Penso che ci sia anche l'arco, no? No. Vabbè. Facciamo un pickaxe. C'è un vero piccone. Un pezzo di iron e una piccola pietra. Piccola pietra l'avevo vista qua. Eccola qua. E il pezzo di iron... Da dove lo prendiamo? Penso da... Questi così qua. Sicuro. Rompi con questo, vai. Ma usa il coltello per rompere. Va bene? Ok. Pezzo di iron. Infatti. Immaginavo. Facciamoci anche questa. Così. Ce l'abbiamo. E la schiaffiamo qua. E poi... Il claw hammer. Che vuole una piccola pietra. Cos'è quel... Quel simbolo in alto a destra col teschio? C'è scritto 0010H. Prendiamo i funghi, va. Non si sa mai. Ci facciamo un bel risotto ai funghi stasera. Questa pianta si può prendere? No. Perfetto. Andiamo qui. Cos'è questa valigetta? No. Qui non possiamo devastare più nulla. E qui ci andiamo a prendere... Un altro pezzo di iron. Perfetto. I. Ci mancava questa. Ah, piccola pietra, no iron? Scusate, scusate. Ok, piccola pietra. Claw hammer. Sì. Va bene. Abbiamo anche il martello. Non so la sua utilità. Vediamo. Danno. Danno. Può essere usato per cioppare. Può essere usato per minare. Può essere usato per distruggere o cost... Distruggere le costruzioni. Distruggere. Sì. Vabbè. Se lo dice lui... Ah, ma attenzione. Abbiamo ammunition bag, food bag, material bag. Quindi sono divise... Vestiti. Equipaggiamento. Cibanza. Vari ed eventuali. Penso che siano per costruire. E questo cosa fa tutte? Sì. Ok, andiamo in giro. Ma che faccio? Lo prendiamo questo? Andiamo. Rompiamola, dai. Non si sa mai. Ci portiamo un po' di roba e poi partiamo all'avventura. M mappa. Ah, la peppa. C'è tanta roba. E poi come torna la mappa? Ah, qua. Ah, proprio a pagina. Lui ci dice... Tu puoi tenere le informazioni su come scappare vale coordinate per ottenere gli oggetti che tu hai bisogno nel secondo piano della cerca. Quindi qua dovrei andare. Ah. e io sono qui dove non c'entra niente. A meno che è questo? No, non c'entra niente. Ok. Sento dei rumori di zombie però. Sento... Sì, eccolo qua. Oh, ma sono brutti e cattivi. Oh, cogiuda. Mi ha fatto malissimo. Oh, attenzione. Lei non è male. Se n'è scappato. L'ho mancato però. Ma posso saltare? Sì. Aspetta perché ho capito il trucco di questo. Mi sta facendo malissimo. Sono morto. Ma... Non mi dà il tempo di attaccare però. Vabbè, andiamo di coltello. No, il coltello l'ha tolto però. Adesso ce l'ho. Oh, il coltello è più veloce dell'accetta. Quindi, adesso per ripristinare la vita Mangio questo? No. Non succede niente. Ce l'abbiamo. Ce ne dovrebbe essere un'altra. Eccolo lì. Questo è brutto, eh. Ah, ok. Vabbè, spamming dello stesso pulsante. Ci stiamo un po'. Quanta vita, ciao. Questo lutta. Figo. Non c'è scritto. Ma... Ce n'è tanti là dentro. Ciao, ciccio. Ok, ci ha visto. Adesso ce lo portiamo fuori perché là dentro è veramente buio. Sembra un alieno comunque. Diciamo che la E non è male perché ogni tanto si... si allontanano per darti il colpo e ti girano attorno. Quindi non è male. Il colpo di accetta glielo diamo per altri. Guarda, ti è fermo lì. Non ci vede. Oh, 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 oh. Ci sta... Secondo me moriamo. Facciamo il doppio... Danno doppio? Questa è incavolata, eh. Ok, ci abbiamo il salterino. Va bene. Che fa una... Una faccia brutta quando salta. Adesso lui salta, salta. Dai, dai. Vedi? Va bene. Dai, salta, salta. Ok, ci spostiamo. È brutto. Ma che brutto. Proprio brutto, brutto, brutto. Va bene. C'è proprio la faccia brutta. Ok, andiamo qua dentro. C'è la cassa. Io volevo questa, vedere cosa c'era qua dentro. C'erano troppi zombie. Quindi secondo me c'è qualcosa di ottimo. Lumber. No. C'era niente. C'era roba inutile. C'è tavole di legno. C'era. Eh? Questo? Pistola. Dai, dai, dai. Questa è la cassetta delle munizioni. No. Pezzi di aero. Ah, sì, infatti. Qui abbiamo questo. Mattone. Roba. Ok. Proseguiamo. Siamo ancora lì. Attenzione. Stiamo alla larga, eh. Come ci curiamo? Ah, meno 5. Questo c'ha velena. Questo invece ci dà la vita. Ok. Il fungo ci fa male. Ma si può cacciare? C'è un coniglio. Prendi il coniglio. Raggiungi il coniglio. No. Dove possiamo stabilirci? Allora, mappa. Noi siamo qui. A questo punto. Se noi continuiamo per questa strada. Ci ha visto, ci ha visto. Ma se io corro, lui se ne va a... Ma cos'è quella cosa? Un cinghialo. Enorme sto cinghiale. Ah, se ne è allontanato. No. Quello è bellissimo. Guarda come corre. Oddio. Siamo nel panico. Ci stanno rincorrendo tutti. Ci sono zombie da Twitter. Escono dalle pareti. Ok. Scappiamo. Perché sono troppi. Qui si può aprire? Sì. Figo. Vediamo un attimo. Scappare da questa zona. E andare in una postazione un po' più alta. Dove posso vedere... Un po' tutto. C'è la stamina che se n'è andata a benedire. E soprattutto animali selvaggi. Eccoli. Vedi. Siamo già abbastanza in alto. Vediamo se c'è dall'altra parte della collina. Ecco la città. E mi sa che abbiamo trovato il nostro posto. Esattamente ciò che volevo. Da qua gli zombie non possono salire. Lì c'è la città. Quindi abbiamo tantissimo. Possiamo farmare tantissimo. Allora lui dice di costruire... Di fare B. Casetta. Floor. Pavimento. E costruire questo. Così. Eh? Ma. Q è. Abbassa. Alza. Poi c'è. Rotate. Snap. Ok. Eh. Non è molto... Bellino il sistema di costruzione. Ma soprattutto non me lo fa costruire. Chippalip. Tutto rosso. Ah. Foundation. Non pavimento. Scusate. 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 Viola. Perché viola? Vabbè. Ci piace il viola. Al. Build. Non funzia. Signori. Non funzia. Ah. Ci manca il log e i laccetti. I vine. Che sarebbero le stringhe. Eh? Dillo prima no? Tiriamo già anche questo. Che credo che... Ci dia i vine. Sì. Infatti. Questo sarà bello. Tosto. La madonna mia. Iniziamo la fase di... Di sboscamento. Ok. Dopo aver raccolto un po' di legno e di sboscato un po'. Naturalmente non c'è la durabilità sugli attrezzi. Eh. Posizionano però eh. Ah. Devo tenere tremuto. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Quindi faremo uno. Che succede? Non me lo fai mettere più. Ti piace? Qua. Snappa la griglia. Esatto. Qua. No 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 no. Snappalo. Brava. Una, due. Poi andiamo qua. Ok. Non capisco perché devo tenere premuto. Però va bene. Dopodiché ci dice di costruire delle scale. Sempre con B. Scale. E. Scale. Beh. Ci abbiamo tutto. Quindi andiamo a costruire. No. Così possiamo salire in casa. E saliremo da questo lato. Accendi la luce. Ah. Ce l'abbiamo qui. E spegni la luce. Perfetto. Controlla la mappa. Noi siamo qui. Crea equipaggiamento production table. Abbiamo bisogno di piccole pietre. Crescono. Ma qua ne abbiamo tante di pietre. Quindi. Uno. Due. E. Non la prendi questa. Non ti piace. Ok. Quindi. Questo equipaggiamento. Piccolo. Che sarebbe il workbench. Credo. Sì. Il tavolo da lavoro. Che. Come al solito. In questi casi. Il tavolo da lavoro. Va messo. Negli angolini. Inutile. Però lo posizionerei qua. Qui. Un po' più. Qua. Appena entri. Qua. Esatto. Open space. Ehm. Costruisci. Un arco. Andiamo qui. Eccolo qua. Ci. Ah. Queste. Queste stringhe. Sono il materiale essenziale di sto gioco. Dopo averlo creato. Naturalmente l'arco va qua. Ora facciamo una sleeping bag. La sleeping bag. E dove si fa? Qua. A. Sempre con B. Lingotto. Utility. Sleeping bag. Ci abbiamo tutto. Crafta. E. Per dormire. Andiamo. Che brutto. Così. Vederelo così è bruttissimo. Lo andiamo a mettere qua. L'ho messo al contrario forse. Crea. Ah. Registra. Ah. Ok. Quindi praticamente se muriamo. Sponiamo qua. Perfetto. Dobbiamo minare forse. C'è arrivato il momento di. Oh. Questo mi piace. Quindi così. Se si distruggono così le rocce mi piace. Gli alberi un po' meno. Qua. Così. Perfetto. Crea un tavolo di ricerca. Scendiamo giù in città. Vediamo un po' cosa troviamo. Arco. Uh. Aspetta. C'è una cosa che mi sono dimenticato. Di fare le frecce. Crafta. Dieci frecce. Quindici. Ah. Dieci frecce. Quindici. Va bene. Funziona. Ok. Ah. L'ho preso? Boh. Non lo so. Avrei voluto. Ma c'è il crouch. Ah. Ok. C'è il crouch. Andiamo a vedere in questa città. Dobbiamo trovare una rope. Ce ne serve solo una. Un attimo. No. Sì. L'abbiamo preso. Ci facciamo malissimo. Lo so. Però. La tecnica scivolone. Funziona sempre. No. Non funziona. Questo gioco non funziona. Mangiamo l'energy bar. Allora. Dove è finito? Ok. Io non vedo niente. Eccolo qua. Bird Meat. Raven Bones. Ok. Eh. Non è male. Proveremo l'arco però. Uno. Quattro. Cinque. Cinque colpi. Mmm. Sono veramente poffi. Forti. Cioè. Non li butti giù. Ah. Ma posso prenderle. Aspetta. Aspetta. Take all. Ottimo. Possiamo raccogliere le frecce. Questa. Mi piace. Ottimo. Complimenti. Questa è una bella idea. Sarebbe anche figo. Se. Dopo. Che le hai raccolte. Dopo un po' si rompino. Comunque sia. Questo qua. Lo possiamo buttare giù. Cioè. Praticamente facciamo così. E continuiamo a premere il tasto del mouse. Lei spara a manetta. Cioè. Non devo ricliccare. Fa tutto così. T. Ok. Questo qui lo possiamo distruggere. Che so che ci serviranno queste cose qua. Ce le chiederà dopo. Abbiamo preso anche un pezzo di stoffa. Quindi credo che come stoffa ci siamo. Direi che possiamo tornare a casa. Ma noi casa la vediamo così? No. Ah. Dovremmo segnarcelo. Perché se no. Ci perdiamo. Ci attacca lui. Ci attacca lui. Dai recuperare qua. Dai qua. Prendi la freccia. No. Oddio. E questo? E chi l'aveva visto? Oh. Finalmente. Ho trovato casa. Wow. Allora. Prima di tutto. Mettiamo un pallino. Qua. E non si può più mettere altro. Così abbiamo. Almeno abbiamo la casa. Wow. Dopodiché dobbiamo costruire. Delle funi. Fatto dai clot. E può essere fatto nella crafting table. Ok. Abbiamo bisogno della vera crafting table. Quella è per l'equipaggiamento. Questo è tipo il banco di lavoro così. A fuffa. Ci serve una pietra. Ok. Recuperata la pietra. Si va qui. Si fa craft. Crafting table. No. Ci serve proprio una pietra. Non una piccola pietra. Vuole la pietra. La nostra trappola ha preso qualcosa. Poverino. Build. Ma è gigante. È giganto. E la mettiamo. È gigante veramente. E no. Allora a questo punto mi piace più così. Snappala la griglia per favore. Così. Eccola qua. Ah no. Ma. 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 Ah perché l'upgrade ti dà tutte quelle cose. Perfetto. Crafta. Adesso possiamo costruire le rope. Tanti me ne serve una. E ne abbiamo. Come crafting failed. Come crafting failed. Ma. Ma che vuol dire? Facciamo le clout. Crafting. Craft. L'inventario è pieno. Bottiamo un po' di pietra. C'è crafting failed. Ok. Costruirsi un research table. Per fare il research table. Si fa B. Questo. Poi si va in utility. E research table. Lumber. Ma. Prende molto in giro questo gioco eh. Lumber. 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 Ci serve il material production table. Il material production table. Si fa con questo. Per fare questo. Ci vuole questo. E questo. Ok. Ottimo. Saltello. Saliamo qui. Questo. Crafting. Material. Costruiscilo. Allora. Questo. Allora. Anche questo può essere upgradato. Quindi lo mettiamo qua. Perfetto. Ok. E facciamo un lumber. Crafting. Inventario. È full. Natavoto. Cosa buttiamo? Andiamo a buttare qualcosa. Le foglie. Non ci servono le foglie. F. Creiamo uno di questo. B. Lo segreto abbiamo. Ah. Research table. Craft. No. Non era craft. Era utility. Se non mi ricordo male. Utility. Research table. Costruisci. Il research table lo andremo a mettere qua. Anche se. In teoria. Vorremmo metterlo da un'altra parte. Però. E fare altre fondamenta. Il pendulum. Mili. Che cos'è questa roba? Mili. Pendulum. Beh. Incomincia a farsi interessante. Ma prima di tutto. Dato che sta arrivando. La sera. Volevo vedere se si poteva. Eccola qua. Mi servono le foglie che ho buttato. I rametti. E le pietre. Ah no. Le pietre ce le abbiamo. Le foglie che ho buttato prima. No eh. Saranno qua sotto? No. Oh. Abbiamo la nostra stazione di cucina. E possiamo fare. L'orio bollito. Roasted bird. Lo possiamo fare. Crafta. Questo lo possiamo fare. Inventario in full. Però noi ci andiamo a mangiare. Dov'è? Dov'è? Eccolo qua. Ah. Signori. Eh? Ce l'abbiamo. Ci sono emoticons? No. Non lo so. Va bene. Non è un problema. Ma che bella la research table. Proprio carina. C'è proprio i libri ci sono eh. Post it. Proprio una scrivania. Non è male. Non è male. Ok. Bene signori. Io direi che per oggi è tutto. Spero che vi siate divertiti. Abbiate capito molto meglio questo gioco. È nel reaccess. Quindi aspetteremo i vari sviluppi. Non so ancora cosa vuol dire quel teschio in alto a destra. Ma credo che sia quanti nemici abbiamo abbattuto. Non lo so. Vi ricordo sempre che potete supportare il canale lasciando un like. Un commento. E se volete iscrivetevi al canale. Come sempre. Siete mitici. Alla prossima. Bye bye. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie a tutti